3 migliori azioni da dividendo per il 2021 Ciao sono Michael e benvenuto in questo nuovo video Oggi parliamo delle 3 migliori azioni da dividendo nel 2021 E abbiamo delle aziende molto interessanti Quindi rimani fino alla fine per scoprire quanto pagano di dividendo, quando lo pagano Ma prima di vedere quali sono le aziende di cui parliamo oggi Ti chiedo un bel mi piace per supportare il video con l'algoritmo di YouTube Iscriviti se ancora non l'hai fatto E iniziamo subito Si tratta di 3 aziende molto solide, grandi Che hanno un potenziale di crescita ancora enorme Quindi fantastico La prima di cui vi parlo è Microsoft Che ha un payout ratio del 31% Un dividend yield dell'1% Ed è uno dei player dominanti per quanto riguarda il cloud computing Questo ormai lo sappiamo Microsoft negli ultimi anni ha fatto un cambiamento incredibile verso questo settore Che è enormemente in crescita E sta mettendo gli occhi in modo molto interessante Anche per quanto riguarda il settore del 5G Pochissime aziende hanno il potere finanziario di Microsoft Ha più di un triliardo e mezzo di capitalizzazione Le reti del 5G faciliteranno un'ondata per quanto riguarda i nuovi processi tecnologici Come le auto a guida autonoma Le città intelligenti Le velocità di internet mobile Estremamente elevate Inoltre teniamo presente che Microsoft ad aprile ha fatto un'acquisizione molto importante Si tratta di Affirmed Networks Fornisce soluzioni cloud based completamente virtualizzate per reti mobili Rafforza il rapporto con le telecomunicazioni E indica l'intenzione di vincere nel business della gestione della rete cloud Affirmed Networks è uno specialista del 5G Un esperto nell'ottimizzazione dei sistemi degli operatori di rete Aumenta l'efficienza e riduce al minimo i costi Poi vediamo un'altra acquisizione fatta a maggio sempre da parte di Microsoft E stiamo parlando di Metaswitch Networks nel settore delle telecomunicazioni È un leader nel campo del settore delle reti virtualizzate ad alte prestazioni Il management di Microsoft ritiene che Metaswitch aumenterà la capacità di sviluppare software Che alimenta le reti e le applicazioni di telecomunicazione virtualizzate Inoltre Microsoft nel 2020 ha svolto varie acquisizioni per un totale di un miliardo di dollari Sempre nel ramo telecomunicazioni e 5G Questo ci fa capire l'intenzione di Microsoft di spingere in questo settore Che è molto in crescita nei prossimi anni sicuramente Sta nascendo il 5G Stiamo iniziando a vedere anche i primi dispositivi mobile 5G E in futuro vedremo sicuramente delle prestazioni incredibili Quando questo settore sarà ben consolidato Città intelligenti ancora oggi non le vediamo Auto a guida autonoma non sono pane quotidiano Non vediamo una macchina sia una macchina nuova a guida autonoma Quindi in futuro molto probabilmente vedremo questo E Microsoft ci regalerà magari molte soddisfazioni Oltre a questo però in Microsoft per vedere se è un'azienda valida Abbiamo altre cose molto interessanti Azure sta beneficiando moltissimo per quanto riguarda il settore cloud Che è sempre in crescita quindi punto a favore a Microsoft Inoltre i pacchetti Office e i pacchetti Microsoft Teams Sono molto concorrenti rispetto anche a Zoom Infatti molte persone piuttosto che usare Zoom utilizzano i servizi di Microsoft E per quanto riguarda i competitor Microsoft sui computer c'è sempre Per quanto riguarda uno dei concorrenti più agguerriti di Microsoft Magari nel settore cloud potrebbe essere Amazon Però non dà ancora un dividendo quindi in questo video non l'ho voluta includere Seconda azienda di oggi parliamo di Nike Ha un payout ratio del 54% Uno yield, un dividend yield dello 0,78% Ed ha fatto in questo 2020 un grandissimo spostamento nel settore dell'e-commerce Infatti le vendite che non ci sono state per i negozi chiusi in praticamente tutto il mondo Oppure la riduzione enorme delle vendite nei negozi al dettaglio Sono state compensate e anzi superate enormemente per quanto riguarda l'e-commerce Infatti Nike è cresciuta moltissimo per quanto riguarda l'online Infatti la crescita digitale quindi solo dello store online di Nike rispetto al 2019 È stata dell'84% Nonostante la pandemia sono riusciti comunque a gestire in maniera ottimale gli inventari E guardando la pagina delle relazioni agli investitori Nike è un'azienda in crescita Quindi ottimo punto a favore È un'azienda che ci dà un dividendo grande ed è in crescita Terza azienda si può prendere spunto da Nike Ho detto settore dell'e-commerce in crescita E si sono molto spostati su questi Parliamo di UPS che è nel settore della spedizione Spedizione di pacchi UPS ha un payout ratio del 48% Un dividend yield del 2,35% Ed è impostata in maniera ottimale per il macro trend dell'e-commerce Infatti in questo 2020 abbiamo visto un sacco di aumento dell'e-commerce Abbiamo visto moltissime persone acquistare online E loro erano pronti con le spedizioni Loro hanno affrontato questo aumento dei livelli del lavoro E ce l'hanno fatta in maniera ottimale Uno dei concorrenti principali di UPS è FedEx Però per quanto riguarda il dividendo FedEx dà un dividendo solo dell'1% Durante il 2020 ovviamente per la pandemia hanno dovuto abbassare il livello del dividend yield Quasi della metà praticamente Però nei prossimi anni secondo le stime continuerà a crescere Quindi ottimo punto a favore Tra le tre aziende citate oggi UPS è quella più indebitata E anche quella che ha bisogno di più debito Infatti Microsoft va avanti senza debito Nike nel 2019-2020 ha chiesto un minimo di debito ma poca roba Mentre per quanto riguarda UPS siamo sopra i 15 miliardi di debito annuo Che non è poco Anzi lo stanno cercando di ridurre anno dopo anno Però per quello che fanno loro hanno ancora bisogno di questo Poi se non erro c'è stato di recente una specie di contratto che vedremo nei prossimi anni Per quanto riguarda il loro spostamento dei furgoni all'elettrico Quindi il corriere che ci porta il pacco a casa sarà totalmente elettrico Per quanto riguarda l'Italia UPS non è uno dei top competitor Però non ci interessa l'Italia ci interessa il mondo, l'America Ovviamente UPS comunque è globale Lo troviamo in tutti i paesi dove ha posizioni più dominanti e in altri posti un po' meno Però parlando di soldoni Quando ci pagano i dividendi queste aziende? Praticamente tutte nello stesso periodo Sono tutte aziende che danno un dividendo trimestrale E lo danno tutte a febbraio, maggio, agosto e novembre Anche se per quanto riguarda Nike ho visto dei cambiamenti Soprattutto nel 2020 forse perché un mese era saltato Addirittura avevano tolto il dividendo un mese Ed è l'unica che al posto di darlo a febbraio lo dà a marzo Ma per tutti gli altri mesi rimane uguale Fammi sapere quali di queste tre aziende hai già in portafoglio O vorresti aggiungere Se hai altre aziende da consigliare qui sotto Per quanto riguarda i dividendi fallo pure Ovviamente non ho voluto fare un video su aziende ad alto dividendo Perché non aveva senso Ho voluto fare le migliori aziende da dividendo Quelle più solide che hanno più potenziale di crescita anche Però se vuoi un video su aziende ad alto dividendo Quindi che hanno tantissimo dividendo da dare Magari un 10% hanno un 5, un 7, un 8% Che sono dividendi molto alti Qui siamo arrivati fino al 2,5 praticamente E fammelo sapere nei commenti Così mi organizzo e faccio un video anche su quello Ti chiedo un bel mi piace per supportare il video con l'algoritmo di YouTube Iscriviti se ancora non l'hai fatto E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.